Grazie Presidente. Guardi, è un'illustrazione molto veloce. Qui nel territorio di Roma Capitale e nel Municipio 9, da diversi anni e anche durante questa nostra amministrazione, ci sono degli atti di fatto approvati all'unanimità per la realizzazione di una stazione ferroviaria denominata in modo pratico, divino amore, per la vicinanza che c'è al noto santuario. In quest'area di fatto c'è tutta una popolazione di diverse decine di migliaia di abitanti che potrebbero trovare un beneficio enorme dalla realizzazione di questa stazione ferroviaria. Io credo importante che questa amministrazione metta in atto tutte le possibilità per la realizzazione di questa stazione, adoperandosi presso la Regione Lazio e tutti i soggetti istituzionali preposti, nonché ovviamente con RFI, col quale Roma Capitale ha un accordo di collaborazione per poter progettare e realizzare questa stazione ferroviaria. È una richiesta molto forte che arriva dal territorio. Io credo che sia giusto che quest'Aula approvi questo ordine del giorno per mettere in atto tutti gli atti per far sì che possa essere realizzata. Grazie.